La complanare Fano-Pesaro, un progetto caduto nel dimenticatoio secondo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Fano, che dopo aver rispolverato i documenti di 15 anni fa, denunciano la negligenza della giunta seri. Abbiamo scoperto che nel 2006, per dare l'autorizzazione della terza corsia dell'autostrada, spiega il consigliere comunale Tommaso Mazzanti, il comune di Fano aveva fatto delle prescrizioni, aveva chiesto delle condizioni precise. Tra queste vi erano le bretelle, che sono state recentemente ultimate, il casello di Fano Nord, poi bocciato dalla sovrintendenza e dal TAR, ma c'era soprattutto una complanare di collegamento tra Fano e Pesaro. In consiglio comunale abbiamo portato questi temi, abbiamo ricevuto dal vice sindaco Fanesi e dall'amministrazione delle risposte molto imprecise, ci hanno risposto con dei non credo, non penso. Come siamo stati precisi noi, ci saremmo aspettati altrettanta preparazione, altrettanta precisione da parte di chi appunto era chiamato a risponderci. Noi non sappiamo se in questi quattro anni non si è più parlato di complanare, ma ci si è concentrati sulla chimera, forse, del casellino per negligenza, per incapacità di questa amministrazione, oppure se abbiano volutamente finora taciuto una parte della verità che abbiamo scoperto. Sicuramente il nostro impegno d'ora in poi sarà quello di capire per quale motivo questo impegno sulla complanare sia passato in secondo piano e sia appunto caduto nel dimenticatoio. Abbiamo anche saputo che da parte di società autostrade ci sono ancora 14 milioni come obbligo monetario da corrispondere nei confronti del Comune di Fano. Qualora non si facesse il casellino, a nostro avviso, unendosi ai 20 milioni già arrivati dallo Stato e dal CIP, si dovrebbero utilizzare appunto per una complanare che finalmente crei quella circonvallazione tra Fano e Pesaro che il nostro territorio si aspetta e auspica ormai da molti anni. A replicare i 5 Stelle è il vice sindaco Cristian Fanesi, il quale fa chiarezza sulla questione emersa durante lo scorso consiglio comunale. Io credo che il Movimento 5 Stelle abbia preso un abbaglio, nel senso che ha riportato sì un documento valido, perché è un documento del 2006, quindi di 14 anni fa, che però non tiene conto di tutto quello che è successo nel frattempo. Tra l'altro basta cercare bene degli archivi del Comune per trovare una delibera del Consiglio Comunale del 2010. Già nel 2010 il Comune di Fano aveva cambiato idea con una delibera di Consiglio Comunale in cui era presente anche il Movimento Bene Comune che poi è confluito nel 5 Stelle e all'unanimità si era votato appunto per abbandonare questa opera complanare e per sposare invece la teoria di realizzare un casello a Fano Nord e un casello a Pesaro Sud per permettere il collegamento veloce. Tra l'altro, diciamo, anche in questo Consiglio Comunale nel 2010 ci fu un'approvazione rara, devo dire, in Consiglio Comunale all'unanimità a favore di queste opere presentate all'epoca, quindi senza complanare e tra l'altro molti consiglieri, anche il Consigliere Benini dice e sposa questa tesi e anzi dice io sono sempre stato e continuo ad essere assolutamente contrario allo complanare Fano-Pesaro perché quella sarebbe veramente una devastazione del territorio.